La Corea del Nord è sconvolta da un caso di molestie sessuali nel mondo dello sport. Coinvolte diverse atlete della squadra nazionale di pattinaggio di velocità Short Track, tra cui la campionessa olimpica Shim Suk-ae, una delle rivali dell'azzurra Rihanna Fontana. L'atleta 21enne ha denunciato già da diversi giorni l'ex allenatore della squadra, Cho Jae-ae-be-om, che l'avrebbe molestata fin da quando aveva 17 anni. S'allarga in Sud Corea il movimento Me Too. Il gruppo Solidarietà per giovani pattinatori, spiega la parlamentare Son Yevon, ha identificato altri sei casi di aggressioni sessuali dopo le dichiarazioni della campionessa olimpica Shim Suk-ae. Le vittime hanno ancora paura di subire danni e ritorsioni, preoccupandosi se potranno rimanere nel mondo del pattinaggio dopo l'annuncio pubblico delle molestie subite. L'allenatore accusato da Shim Suk-ae era già stato arrestato nel settembre scorso e condannato a dieci mesi di reclusione per precedenti denunce subite da diverse pattinatrici. Ora la sua posizione rischia di aggravarsi ulteriormente.